Conterranei all'estero che tornano a casa. All'indomani dell'evento di presentazione a Priverno 2023, anno del turismo di ritorno alla scoperta delle origini, l'associazione Ore Calazio Sud è pronta a scendere in campo e fare la sua parte. Nei prossimi cinque anni, attraverso le organizzazioni che ruotano intorno al turismo, i nostri conterranei all'estero potranno riapprezzare quei sapori e quelle specialità culinarie rimaste per anni nei loro ricordi. Italo di Cocco infatti è pronto a cogliere questa occasione insieme ai tanti ristoratori aderenti a Ore Calazio Sud. Noi dobbiamo dimostrare che i piatti di una volta, le specialità di una volta, fatte anche solo con i prodotti che uno ha in casa, i prodotti che ha nell'orto, sono la cosa più bella al mondo. Ci fa vedere che cosa possiamo preparare? E perché no? Io oggi avrei intenzione di proporre una bazoffia. La bazoffia è formata soprattutto da pane raffermo che si ha in casa e chiaramente va messo a mo' di zuppa. Poi tutto ciò che abbiamo nell'orto, pertanto tutte le varie verdure, tutto quello che c'è in casa. Che cosa c'è l'intento? Qui ci sono i piselli, ci sono i funghi, quello che sono i prodotti presenti al momento della realizzazione. Pertanto abbiamo la cicoria, eccola qui, vedete? La cicoria, che questa è importante. Dopodiché mettiamoci anche il formaggio, perché no? Perché questo arricchisce tantissimo la zuppa. Vedete? Mettiamo questo formaggio, dopodiché vediamo le famose uova che sono un po' l'oggetto della discussione tra Priverno e Sezze. Io per adesso la metto in terra. E poi, eccola qui. Allora, noi non facciamo altro che mescolare, ed è una zuppa che mette d'accordo sia Sezze che Priverno. Vinci'lla. Allora. 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 Grazie.